Bella ragazzi, sono Beastard e oggi vi propongo un gameplay nella mappa studio in uccisione confermata. Vi dico subito che l'uccisione finale mi è venuta molto bene, magari ditemi cosa ne pensate voi nei commenti. Comunque, come potete vedere usavo l'MSMC silenziato, non vi elenco il resto delle specialità eccetera, perché potete vederlo da voi mettendo in pausa. Vi dico solo che io uso spessissimo serie di uccisioni basse, perché se incomincio a mettere quelle più alte poi va a finire che mi incazzo, perché capita sempre che sei a una dal Vsat o ad altre e ti arriva una granata dal nulla oppure un camper bastardo ti uccide. E poi io ho quito la partita. Comunque, in questo gameplay giocavo con un gruppo di americani abbastanza simpatici che sapevano come muoversi, di fatti non spingevano troppo e quindi il respawn nemico non cambiava. Quindi come potete vedere mettevo l'infiltrazione tattica in mezzo alla mappa perché sapevo che i nemici nascevano o dopo il castello o a destra. Poi a metà partita questi americani mi hanno fatto pure i complimenti per come giocavo e questa cosa mi ha fatto molto piacere perché quando qualcuno ti fa un complimento è sempre ben accetto. Poi finita la partita mi hanno pure chiesto di entrare nel loro clan e ho accettato volentieri perché come ho detto erano simpatici e mi stavo divertendo. Poi è anche utile per continuare a parlare in inglese e migliorarsi. Poi ragazzi volevo chiedervi se mi potevate scrivere nei commenti cosa vi piacerebbe vedere perché io sto mettendo un po' di tutto, però se vi interessa una serie in particolare posso provare a farla, cioè ditemi voi. Detto questo vi lascio al gameplay, vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace e un commento se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci sentiamo alla prossima. In attesa di uno. Infiltrazione tattica! Uccisione! Uccisione negata! Uccisione negata! Ua via alleato in arrivo! Uccisione confermata! Uccisione confermata! Uccisione confermata! Uccisione confermata! Faccio rifornimento! ok, i'll squat this at again i'm really good at that i'm 11 of a stealth chopper i'm not doing too bad drone d'attacco pronto allus ok 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 no 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 all right i'm on it goodbye is it gone yep heal that guy where is this thing oh i didn't get it what well continue we are in advantage oh you're sniping you're not allowed to have a cap 40 in your back pocket ok i've got the craziest blood dirty ever always on top of the leaderboard and 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 and